Ben ritrovati in studio per questa seconda parte di Free News. Come annunciato ci occupiamo adesso di cronaca. Incidente mortale questa mattina lungo la strada statale 115 nel tratto che collega Vittoria Gela. A perdere la vita una donna di niscemi di 40 anni che viaggiava a bordo di una Fiat Punto. La donna è stata trasportata in ospedale a Caltanissetta dove però è deceduta. Incidente mortale questa mattina sulla Vittoria Gela. Il sinistro si è verificato intorno alle 7 sulla statale 115 nel tratto che dal centro è Parino, porta a Gela. Una niscemi di 40 anni in Gaetana Lombardo che viaggiava al volante di una Fiat Punto in direzione Vittoria. Per causa ancora in corso di accertamento all'altezza del ponte di Dirillo ha perso il controllo del proprio mezzo che è sbandato andando a schiantarsi contro un muretto a secco. Violentissimo l'impatto che non ha lasciato scampo alla quarantenne. Per estrarre fuori la donna dalle lamiere è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco. Subito la donna è stata trasportata in eri soccorso all'ospedale di Caltanissetta dove però è deceduta. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Vittoria. A causa dell'incidente il tratto della SS-115 è rimasto bloccato per alcune ore e il traffico è stato dirottato verso strade secondarie. I militari della Capitaneria di Porto di Pozzallo hanno sorpreso in flagranza di reato. Quattro cittadini extracomunitari intenti a smontare alcune parti meccaniche dai motori marini installati a bordo dei motopesca sottoposti a sequestro penale. In particolare i militari della Capitaneria a seguito di appostamenti programmati hanno fermato i quattro malviventi già in possesso della refurtiva ed in procinto di allontanarsi dal porto a bordo di un'autovettura. Accertato l'illecito commesso sotto il diretto e costante coordinamento della Procura della Repubblica di Modica sono stati speriti tutti gli accertamenti di polizia giudiziaria che hanno portato all'arresto in flagranza di reato dei quattro cittadini extracomunitari per l'esattezza tre tunisini tra cui due uomini e una donna e un egiziano. I quattro extracomunitari arrestati sono stati condotti presso le case circondariali di Ragusa e di Modica a disposizione dell'autorità giudiziaria. E a Vittoria la polizia è riuscita a sventare un furto di carburante dalla sede del consorzio agrario. Recuperato anche un autocarro che era stato rubato la notte dal mercato ortofrutticolo. Sventato furto al consorzio agrario di Contrada Gaspanella a Vittoria. Gli intensi controlli di polizia anche nelle ore notturne, buona sinergia con gli istituti di vigilanza privata, hanno consentito di sventare un consistente furto che i gnoti malviventi avevano architettato i danni del consorzio agrario provinciale di Contrada Gaspanella già poche settimane addietro fatto segno di un consistente furto di carburante agricolo. Alle prime ore di oggi una volante del commissariato, intervenuta presso il consorzio agrario dopo una guardia giurata nel corso del consueto giro di prelustrazione, aveva notato che i pozzetti a terra dei serbatoi del carburante agricolo erano stati diverti. Gli agenti giunti sul posto hanno notato che un tubo di gomma era stato introdotto all'interno di uno dei serbatoi e all'estremità era stata collegata una pompa elettrica, a sua volta collegata con un cavo di lungo 50 metri che portava sul terreno limitrofo e dove era posizionato un gruppo elettrogeno che doveva pertanto alimentare la pompa. Nei pressi del generatore di corrente è stato inoltre trovato un tubo in poliertirene di notevole diametro della lunghezza di 50 metri e un grosso autocarro sul quale erano sistemati otto serbatoi da mille litri ciascuno ancora vuoti. Le indagini hanno permesso di appurare che l'autocarro era stato asportato tra la sera e la notte dall'interno del mercato ortofrutticolo di Vittoria e fatto uscire abbattendo un muro del perimetro. Tutto quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro e sono in corso accertamenti dalla Polizia Scientifica. E continuiamo ancora con la cronaca. Vittoria, la Polizia Municipale è effettuato nella giornata di ieri. Numerosi controlli sugli operatori del mercato ortofrutticolo di Contrada Fanello. Una stretta sulla struttura che continuerà anche nei prossimi giorni. Sentiamo. Controlli dei vigili urbani al mercato ortofrutticolo di Contrada Fanello. La direzione della Polizia Municipale ha intensificato i servizi di controllo di fronte alla struttura mercatale di Via Encardona. In particolare, nella mattinata di ieri, sono stati effettuati dei servizi indirizzati soprattutto al controllo dei pass, alla tracciabilità delle merci e al rispetto delle norme del Codice della Strada. I controlli effettuati hanno portato al ritiro di sei pass per irregolarità al controllo di 82 veicoli e all'elevazione di 30 verbali per varie infrazioni al Codice della Strada, di cui 15 per mancata revisione periodica del mezzo, 12 per mancanza momentanea di documenti, una per patente scaduta di validità e due per mancato uso delle cinture di sicurezza. Sono state inoltre identificate e registrate 108 persone in entrata al mercato e quattro fornitori di materiale accessorio alla commercializzazione, quali pedane e reggette. Sono stati effettuati anche controlli dei mezzi in uscita, con verifiche sul possesso dei documenti fiscali relativi alla merce acquistata. Abbiamo operato nell'interesse della comunità e per il rispetto della legalità, spiega il dirigente della Polizia Municipale Cosimo Costa, su precise indicazioni dell'amministrazione. I controlli proseguiranno nei prossimi giorni anche con la verifica dei requisiti per l'ammissione alle vendite e agli acquisti e del rispetto da parte degli operatori commerciali di tutte le ordinanze vigenti, ha concluso Costa, che regolamentano l'attività mercatale. E cambiamo argomento, iniziativa ieri pomeriggio a Comiso del Comitato NoMUS, che presso il Centro Servizi Culturali ha organizzato un incontro per approfondire i rischi del MUS legati alla salute dei cittadini, ai danni all'ambiente e ai rischi per la mancata apertura dell'aeroporto di Comiso. Vediamo. Anche a Comiso il Comitato NoMUS comincia a muovere i primi passi. Ieri pomeriggio, iniziativa di sensibilizzazione, promossa dal Comitato Spontaneo, che ha visto coinvolti tanti giovani delle scuole superiori della città. Il nostrano del WWF Andrea dell'Aglio di Fareverde hanno illustrato i rischi causati dalle potenti antenne militari alla salute dei cittadini e all'ambiente che circonda nel raggio di parecchi chilometri il MUS. Quasi tutta la Sicilia e gran parte del Mediterraneo, infatti, saranno interessate dalle potenti emissioni radar. Abbiamo spiegato quelle che saranno le conseguenze di questa installazione. Il MUS appunto che è un'arma di guerra, innanzitutto bisogna dare il giusto termine alle cose, è un'arma di guerra molto letale che si caratterizza per il devastante impatto ambientale e noi che facciamo parte dell'ambiente siamo investiti da questa devastazione. Grande assente alla politica esigue infatti la presenza di esponenti politici comisani per una questione che dovrebbe vedere in prima fila proprio il rappresentante istituzionale. Intanto per domani mattina a Niscemi è prevista una manifestazione promossa dalla conferenza dei sindaci ma che vedrà una massiccia partecipazione da parte dei comitati spontanei nati in tutta la Sicilia di studenti e cittadini. È stato costituito ieri pomeriggio la provincia regionale di Ragusa il Comitato Permanente per la Mobilità e in particolare per il rilancio della Ferrovia Iblea. Un Comitato Permanente della Mobilità per il rilancio del trasporto ferroviario della provincia di Ragusa. La Costituzione è stata formalizzata al termine della riunione di ieri pomeriggio indetta dal Presidente della provincia Franco Antoci dopo la conferenza provinciale che si è tenuta lo scorso mese di febbraio. La riunione che ha registrato la partecipazione dei rappresentanti dei comuni Iblei, delle associazioni datoriali e dei sindacati dei trasporti si è chiusa con la Costituzione del Comitato Permanente. E dopo aver appreso per l'ennesima volta dei ritardi della regione siciliana e di Trenitalia che ad oggi non hanno permesso neanche l'avvio della nuova edizione del Treno Barocco. Tutti i partecipanti hanno dato la loro disponibilità alla Costituzione di questo Comitato i cui obiettivi finali sono il ripristino delle corse soppresse, la riattivazione dello scalomercio di Ragusa, l'avvio di una sinergia istituzionale con i comuni per l'interconnessione tra il trasporto urbano cittadino e quello ferroviario, il ruolo di interlocuzione privilegiata con la regione sulle tematiche del comparto, la rivalorizzazione delle stazioni ferroviarie e delle aree connesse. Al termine dei lavori è stata condivisa da tutti la proposta del Presidente Antoci sulla composizione del Comitato che sarà costituito dal rappresentante della provincia, dai rappresentanti dei tre comuni più importanti del territorio, Ragusa, Vittoria e Modica, dal Presidente della Camera di Commercio, da un rappresentante delle categorie produttive, da due rappresentanti sindacali e infine da uno del Comitato per il rilancio delle ferrovie. Importante incontro ieri in Prefettura Ragusa, dopo l'entrata in vigore dell'accordo di integrazione lo scorso 10 marzo, si è tenuta una riunione tra l'ufficio scolastico provinciale e i centri territoriali permanenti di istruzione e formazione per promuovere alcune iniziative utili che possano favorire l'integrazione dei cittadini stranieri. In Prefettura si parla di integrazione. Si è tenuto ieri infatti un incontro con il dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Ragusa e i dirigenti dei tre centri territoriali permanenti di istruzione e formazione in età adulta di Ragusa, Modica e Vittoria, per promuovere utili iniziative a sostegno del processo di integrazione degli stranieri appena arrivati in Italia, secondo quanto previsto dall'accordo di integrazione entrato in vigore il 10 marzo scorso. In particolare la Prefettura ha prospettato ai rappresentanti delle istituzioni scolastiche l'opportunità che la prima sessione di formazione civica e di informazione che lo ricordiamo allo straniero all'obbligo di frequentare entro 90 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo possa essere erogata presso i centri territoriali permanenti. Ciò consentirebbe non solo di ottemperare ad un obbligo di legge ma di creare sin dalla prima fase di ingresso dello straniero una proficua relazione delle istituzioni scolastiche con gli stranieri permettendo di monitorarne il fabbisogno di formazione linguistica e culturale e di avviare costruttivi percorsi di sostegno all'integrazione. Le istituzioni scolastiche dal canto loro hanno dimostrato grande sensibilità nel manifestare pronta disponibilità alla piena collaborazione interistituzionale con la Prefettura pianificando sin da subito l'organizzazione delle sessioni di formazione che saranno svolte presso i tre CTP di Ragusa, Modica e Vittoria in orari pomeridiani. La Prefettura fornirà il supporto tecnico attraverso il format predisposto dal Ministero dell'Interno e l'assistenza logistica con il proprio funzionario responsabile del procedimento. In chiusura di questa edizione vi ricordo che oggi alle 21 andranno da un nuovo appuntamento con 15 minuti con la trasmissione di approfondimento di Free TV. Ospite sarà Giovanni Caruano, assessore ai servizi sociali e all'urbanistica della città di Vittoria. Per questa edizione è tutto, vi ricordo che potrete rivedere queste e le nostre altre edizioni sul sito fritywallan1.it. Vi auguro un buon proseguimento.